Si annunciano giornate importanti per la variante della Tremezzina. Il 20 e il 22 marzo sono due date da segnare in agenda. Il 20, l'onorevole della Lega, Ugo Parolo, e il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, saranno a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un incontro richiesto dal deputato del Carroccio con l'obiettivo di ottenere garanzie sui tempi e sulle procedure per il rilascio del parere sull'opera. Il Consiglio dovrebbe poi essere convocato per il 22 marzo. E' quanto emerge dall'incontro che si è tenuto stamattina a Gravedona alla presenza anche del capo area nord-ovest di Anas. Ancora una volta è stata ribadita la necessità, oltre che la volontà di lavorare tutti insieme, enti locali, regione, governo, Anas. I tempi sono già stati scanditi. Il Consiglio ha 90 giorni per esprimersi. Se arrivasse l'ok, Anas riuscirebbe a demanare il bando per i lavori entro l'autunno. Martedì prossimo, in Commissione Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, precisa parolo, in qualità di componente della stessa, si terrà l'audizione dei vertici di Anas. E non mancherò certamente di chiedere tutte le informazioni necessarie e gli impegni sui tempi di conclusione dell'iter di approvazione del progetto, ha concluso. L'attesa infrastruttura, che nasce con l'obiettivo di alleggerire il traffico sulla congestionata Regina, è arrivata a sfiorare 400 milioni di euro. Le risorse ci sono, ma è necessario rispettare le scadenze. Prossimo step, dunque, l'incontro del 20 marzo. Grazie a tutti.